con Emanuele a punta, pupetta, in coraggio alla natura, giovedì 10, canale 5 troppo tempo per lavare i capelli, c'è una nuova soluzione che ti salva frutti fresh, shampoo senza acqua, purificanti 1, flottichi, 2, aspetti di momenti, 3 spazzoli senza bagnarli e asciugarli, i tuoi capelli ritrovano freschietta e leggerezza frutti fresh, shampoo senza acqua, chi si prende ancora di me? gagne fetta al latte, fatta col latte, e il latte è una cosa bella, e anche con una stella fetta al latte è una cosa buona, vorrei dare la sua corona è tanto dolce dopo la nalla, e così te ne veda come una mamma fetta al latte si dà quel cuore, con un gesto pieno da me da una ricetta fatta con il 40% di latte fresco e miele in un sito